Vado a un'altra domanda da parte di una sorella che si chiama Deborah. Deborah, che è mia moglie? No, 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 un'altra sorella dall'Italia, stesso nome. E dice, pace caro fratello Giuseppe. Ciao, Dio te benedica, Deborahina. Sono la sorella Deborah, vi seguo sempre con grande gioia. Oggi vi scrivo perché chiedo preghiera per mia mamma. Quello che volevo chiedere al fratello Giuseppe è questo. Mia mamma soffre di Alzheimer, ormai non si ricorda più nulla, non si ricorda dei suoi figli e di nessuno. È allettata e mangia solo latte con biscotti. Ora mi chiedo, come può essere che una donna che ha dato la sua vita per Gesù sia in questa condizione? Mio papà era un pastore e all'età di 56 anni Dio se lo ha portato e mia mamma ci ha fatto sia di padre che madre. Una donna forte, una donna che in ogni cosa andava ai piedi di Gesù. Sin dalla mia fangiolezza sono cresciuta nell'ambito cristiano, però oggi vedendo mia mamma in questa condizione, io mi chiedo del perché Dio sta permettendo tutto questo. È una domanda profonda. Credo un po' abbiamo risposto all'inizio quando abbiamo parlato perché Dio permette i mali. Abbiamo parlato un po' di questo, però se puoi dare una risposta più specifica, più articolata. visto che questa donna è stata una donna di Dio tutta la sua vita, perché è finita con Alzheimer? Cosa vuol dire? Che non meritavo questo. No, dove è la benedizione di Dio? Sì, ma la benedizione non va per i meriti. Non è che tutta la sua vita è stata cristiana, questo, quell'altro, missionaria. Quindi si merita. E non è così la situazione. E perché no? Perché non siamo arrivati al punto dei meriti. Questo è la chiesa di prosperità. Vangelo, prosperità. Tu ti meriti, siccome c'è Gesù nel cuore, e lui ti merita i soldi. No, non è così la storia. No. Gesù nel cuore, ma se tu... Ma sappiamo che anche in questa vita... Ci sono regole spirituali che qui dobbiamo seguire. Ci sono leggi, le leggi nel Vangelo. Ma infatti sappiamo che in questa vita, se noi camminiamo in obbedienza a Dio e alla parola, mettiamo in pratica la parola, le promesse di Dio diventano realtà. Lo abbiamo sperimentato noi nella nostra vita. Dio funziona. Ma bisogna vedere se sta mettendo in pratica la parola. Ho capito che è cristiana, che è salva e tutto quanto, che ha fatto del bene, ma... Guarda, andiamo a Giacomo 1 e 1 Pietro 5. Guarda, due scritture, due passaggi. Giacomo 1 e 1 Pietro 5, andiamo. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire che non è per meriti. Io ho fatto la cristiana, mi merito. Non è arrivato il tempo dei premi, perché Gesù ha fatto del bene. Sì. Sì, ha aiutato la gente. Più che altri. Ok. Quindi meritava? Certo che meritava al bene. Meritava, no? Sì. E com'è che Dio lo ha ripagato? La croce, il calvario, la crocifissione, la tortura. E i cristiani, i martiri, non erano una brava gente? Sì. Tutta la vita a servire il Signore? Sì, sì. E com'è che Dio l'ha ripagato? Il martirio. Eh. Quindi, ragazzi, non è tempo, diteglielo a quelle chiese di prosperità, non è tempo di mietere ancora. Va bene? Cioè, in base alla nostra fede, Dio ci darà obbedienza, ci darà la protezione, ci benedirà in questa vita, ci proteggerà, specialmente nello spirito. Perché quando Gesù ha detto, non temete chi può uccidere il corpo, ma non può uccidere l'anima. Cosa sta dicendo Gesù? La vostra anima garantisco io. Il vostro corpo lo potranno torturare, far soffrire, lo potranno uccidere. Va bene? Invece, ma giro la prosperità, no, Dio ci vuole ricche e felici con lo yacht, l'aereo privato, eccetera. No, 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 non ha capito niente. Quelli che vogliono il paradiso adesso avranno i problemi dopo. Adesso bisogna fare come Gesù. Allora, questo è il numero due. Lei dice, com'è che dice, perché Dio permette, com'è che dice? Perché Dio permette tutto questo vedendo mia mamma in questa situazione, visto che è stata una donna forte, una donna che per ogni cosa andava ai piedi di Gesù. Beh, vedi, già qui stanno sbagliando, capito? Ecco qui, Dio c'ha delle leggi, come la legge di gravità, c'è la legge. Ecco, allora cominciamo a chiarire, legge numero uno. Dio non sta, Dio non è Dio che fa queste cose. Giacomo 1, 13 e 17. Giacomo 1, 13. E 17. Nessuno quando è tentato dica, sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, e Dio stesso non tenta nessuno. Quindi Dio non dà tentazioni, non è Dio che dà tentazioni, che dà malattie. 17. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendono dal padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Quindi, dolce Deborah, non è Dio che fa queste cose, perché Dio fa solo il bene. Primo Pietro 5, 8, poi Luca 13. Primo Pietro 5, 8. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Cosa significa? Significa che è il diavolo, no? Che fa questi mali. Perché Dio ci manda queste cose? Perché? Perché? Non è Dio, è il diavolo. Ok, ho capito. Perché non le ferma? Calma. Un'altra scrittura, guarda. Luca 13, 11 a 16. Luca 13, 11. Ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Ok, qui la storia la leggete con calma dopo. Va bene. Salta a 16, poi voi lo leggerete con calma. E questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Capito? Ci sono tante lezioni in questa storia. Ma Gesù sta dicendo qui, Satana teneva legata per i 18 anni. Dice Dio te la teneva legata. No, 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 no. Non era Dio che la teneva legata. Uno in carrozzella, anticapato, non è Dio che lo tiene lì. È la nostra mancanza di fede. Va bene. Ti ricordi la storia di John Gillick? John Gillick, che John Gillick è il famoso guaritore, era un protestante questo qua. Un uomo di Dio, in America, lui. Quasi tutta la sua famiglia era morta di cancro, di questo, di quell'altro. Tutti morti, stramorti. E poi si era chi era l'ultima sorella che si era malata. Credo la sorella o la figlia. La sorella o la figlia, insomma, stava morendo. Cioè, una sorella è morta. Un'altra della lunga lista. Uno dopo l'altro sono morti di malattie tutte. Poi alla fine era sua figlia e sua sorella. E allora lui era giunto alla fine di se stesso. Lui credeva nelle guarigioni, credeva in Dio, credeva in tutte queste cose qui. E aveva pregato, pregato per la guarigione ed era morta. E poi c'era un'altra che si stava malando. Non so se è morta anche quella. E allora, ha parlato con Dio, non sapeva più cosa fare. Aveva pregato in tutti i modi che sapeva. Aveva di tutto. Credo che aveva anche digiunato. Però le morti continuavano. È una storia vera, attenzione. E allora lui, siccome amava Dio, dato da Dio, fa Signore, perché permetti questo? Perché hai fatto morire queste persone? Tu potevi salvarle. Perché le hai fatto morire? Cosa gli ha risposto Dio? Dio gli ha detto, figlio, io non gli ho fatti morire. Non ha fatto morire questa, credo che era la sorella. Sei tu che l'hai fatta morire. Lui ha avuto uno shock, come io. Sì, sei tu che l'hai fatta morire. In Marco 16 dice, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Verso 18. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. E lui gli dice, sei tu che l'hai fatta morire, non io. E allora John Gillick, lui, riceve una rivelazione. Io gli faccio morire a questa gente. E da quel momento si è messo determinato, adesso non muore più nessuno, dipende da me. Per contesia, fratelli, prestate attenzione, per contesia, focalizzatevi. Che dobbiamo fare guarigioni, questo è sempre di più. E da quel momento lui si è messo a pregare, a pregare, a pregare, a pregare. Quando c'era un ammalato, pregare, pregare. Con tutto il cuore, non c'erano più dubbi. Tu sei guarito, tu sei guarito. Quello lì, non so se un uomo o una donna che stava pregando, è guarito. E poi un'altra persona. Si è messo a pregare, a pregare, a pregare, è guarito. Guarigioni di tutti i tipi, morti che sono risuscitati. Studiate John Gillick, cercate all'internet. John, si scrive John, G col puntino, Lake, come in italiano, L-A-K-E. Allora John Gillick in inglese, no? Se cercate all'internet lo trovate. E se all'internet lo vedrete, che è stato certificato, questo qua, che sono stati registrati, proprio con certificazione, che lui con il suo gruppetto, che pregavano, più di centomila persone sono guarite nella zona di, dove era lì? Seato, in America, più di centomila. Avevano un posto che si chiamava Healing Room, cioè le stanze di guarigione. La gente andava là, traslocavano, andava a abitare lì, era una specie di ospedale, ma non era ospedale, era un posto, li chiamavano Healing Room. Healing Room in italiano è, come dire, le stanze della guarigione. Andavano lì, dormivano, mangiavano lì, altrimenti pagavano, certo, il cibo, non so com'era la storia, ma non pagavano per, diciamo, per la guarigione, attenzione, sono meno delle spese. Le spese, sì. Alcuni gratis, non avevano niente. E stavano lì, un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, una settimana, due settimane, tre settimane, e guarivano tutti. Guarivano tutti. E lui aveva dei discepoli, va bene, che lui rimandava due e due. Gli dava una scatoletta d'olio, va bene, una boccetta d'olio, e li mandava a guarire gli ammalati. Cioè, a volte telefonavano, c'è uno che sta morendo qui, ci aiutate, mandiamo due missionari. Lui prendeva due discepoli, va bene, come noi possiamo dire dei fratelli di Roma, due di voi andate per cortesia a Milano, c'è una persona che sta morendo. E loro partono con una bottigliata d'olio e lo guariscono, così, no? Wow. Ecco, fratelli, preparatevi. E non si sa mai cosa è. Signora comincia a fare. E questi partivano. Partivano. Si portavano vestiti di ricambio, due camicie, due canottiere. Si portavano. E traslocavano, andavano ad abitare insieme alla persona che era malata. Abitavano lì. E stavano lì alcuni giorni, alcuni settimane, un mese. Perché John Gillette gli diceva partite con questa boccetta d'olio, non tornate fino a quando non è guarito. E questi qua si armavano di fede. E qua, questo deve guarire. Va bene? E guarivano tutti! Amen. Questa era la fede di John Gillette. Grazie, signore. All'inizio del secolo scorso. John Gillette. Va bene? In questi giorni mi pare che c'è uno che si chiama Carrie Blake, no? Sì. Carrie Blake è un americano che sta continuando la missione di Blake. Infatti, se tu vai all'internet e vedi John Gillette Ministries, con la Y in fondo, John Gillette Ministries, si presenta a lui e dappertutto all'internet. Carrie Blake. È un tipo in gamba. Sì, sì. Duro. Sarà alto un metro e mezzo, questo, un metro e sessanta, un metro e cinquantacinque, non so quant'è, ma piccolissimo. He was a martial arts teacher. Sì, è un insegnante di arti marziali. And he's a tough guy. È un duro. Yeah, yeah. Not churchy religious at all. Non è religioso, ha fatto. Va bene, Dio usa gente così, eh. E l'ho visto predicare, Dio lo benedica, predica bene. Ha risultati bellissimi. Sì, predica bene. Non è religioso, questo è che mi piace. Va bene. E lui sembra che sia un guaritore eccezionale, guarisce tutti questo qua. Quella è la sua chiamata. Sì. Va bene. Va bene. Quindi, cerchiamo di avere questa fede, fratelli. D'accordo? Allora, quando chiediamo al Signore perché permetti la malattia di, mio marito, di mia mamma, di mio bambino, è facile dare la colpa a Dio, ma non è Dio che la permette. Dio ha dato a noi l'autorità sopra ogni cosa su questa terra, compreso il diavolo e i demoni. Siamo noi che lo permettiamo. Noi abbiamo questa autorità. e non la usiamo. Non la usiamo. Non la usiamo. Non la usiamo perché il diavolo ci fa dubitare. Ma se non guarisce, ma vai all'inferno, diavolo, e se guarisce. Ma se non guarisce, non è perso niente. Solo ti ingoi la tua superbia e non è guarito. Va bene. Conosco uno che vengono a guarire in America. Cos'è che ha detto? Ha detto così che ha pregato per più di mille persone prima di venire uno guarito. Capito? Quindi, ma tante sono testimonianze. Sì, ci sono. C'è uno che è andato in Alaska che gli ha detto se tu predichi la guarigione vedrai... E' cominciato a pregare la guarigione. Non ho dimenticato il nome. E' cominciato a pregare la guarigione e adesso aveva il ministero di guarigione. Lui e sua moglie in Alaska. Ameno. Va bene. Predicate la guarigione. Va bene. E poi c'era questo che andava dice almeno voglio pregare almeno per dieci persone al giorno. Ovunque andava al supermercato di qua. Questo gli piaceva fare guarigione in supermercati. attaccava il bottone. Ognuno ha il suo stile. Fa amicizia. Questa, quell'altra. E poi pregava almeno dieci persone al giorno. Non guariva mai nessuno. Ha detto ho pregato almeno per mille senza vedere guarigioni. Poi cominciavano a guarire tutti. Amen. Va bene? Amen. Grazie a Gesù. E' fede. Dio ti mette alla prova, fratello. Grazie a Gesù. Però naturalmente sai a volte ci sono dei satanisti sai non so di capire di dibattiti avete visto assistito qualche dibattito di un satanista che combatte un cristiano no? E il satanista userà scrittura come questa. Vai a Esodo 4. Perché se io ho detto che Dio non fa non dà le malattie il satanista dirà alt alt Esodo 4 ce l'hai 10 e 11 Esodo 4 10 e 11 Mosè disse al Signore Ahimè Signore io non sono un oratore non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo poiché io sono lento di parola e di lingua e il Signore gli disse chi ha fatto la bocca dell'uomo chi rende muto o sordo o veggente o cieco non sono io il Signore quindi qua Dio sta dicendo sono io che faccio i sordi i ciechi e i muti e così sembra capito cioè questa è la scrittura che i satanisti gli piace gli ate gli piace usare non sanno neanche che c'è qui ma è nella Biblia te la presento io guarda tranquillo non mi piace nascondere le cose quindi prima che ve lo dice un satanista ve lo dico io questa scrittura qui c'è scritto che Dio rende il muto Dio fa il sordo il muto e allora Fante Giuseppe perché mi dice che Dio com'è che dice quella scrittura che abbiamo letto prima Giacomo 1 13 17 Dio non può tentare ogni cosa buona e perfetta viene dall'alto insomma Dio può fare solo il bene però qui c'è una contraddizione dirà il satanista capito infatti apparentemente qui c'è una contraddizione come si spiega questo Fante Giuseppe chiediamo a Fante Giuseppe che adesso adesso deve spiegare anche adesso sì abbiamo letto spiegare che chiunque qualcuno che fratello o sorellina può incontrare un satanista che dice ah guarda qui contraddizione ma Gesù non è mai dato malattie Gesù no ma qua però Dio sì rispondiamo? ci sono altre scritture sempre nel Vecchio Testamento che dice Dio a Israele se tu non mi obbedisci riceverai le stesse piaghe dell'Egitto le stesse malattie però se mi obbedisci ti proteggerò quindi sembra che Dio manda le malattie Deuteronomio 28 dice e queste sono le maledizioni che ti cascheranno sulla testa allora e qui devo analizzare piano piano va bene? ok se no qui non si capisce allora il primo punto che è il diavolo il diavolo chi ha creato il diavolo? Dio 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 ha creato tutto Dio ha creato tutto quindi oltre a dire chi ha reso il cieco il muto sordo potevo anche dire cioè io signore io io ho anche creato il diavolo potevo anche dire dal quale diavolo tutti questi mali vengono e qui la domanda ma perché hai fatto una cosa così? ma insomma insomma Dio ha creato il diavolo e adesso che lui è caduto che si è ribellato gli permette al diavolo ok una misura di potere di fare il male perché? perché Dio ha un suo piano quindi il diavolo è anche lui uno strumento di Dio volente o nolente e sì questo lo vediamo che ha un certo potere il diavolo ma quale è il piano? dicevi che Dio ha un piano e quale è? è la salvezza il piano è la salvezza delle anime in Cristo Gesù questo è il piano e serve il diavolo? serve il diavolo ma come il diavolo serve per salvare? serve anche per quello è l'unico scopo che non le c'è nel lago di fuoco in un certo senso è come se il diavolo fosse un cos'è che si parla in questi giorni? di virus no? sì e di? è di virus e di? del vaccino vaccini quindi in un certo senso il diavolo è come se fosse un vaccino no i vaccini ci sono falsi e ci sono quelli veri va bene? il diavolo è il virus e lui ho tutte e due cioè il vaccino come sappiamo è un veleno oh su dici il diavolo è il virus non è il vaccino no il diavolo è anche il vaccino adesso te lo dimostro allora Dio usa per vaccinare il mondo Dio usa il diavolo per vaccinare il mondo contro cosa? usa il diavolo per vaccinare il mondo contro il diavolo stesso quindi mentre il diavolo ha grande potenza potrebbe uccidere e distruggere tutto il mondo se vuole Dio non glielo permette però cosa fa il signore? ci permette un pochettino di diavolo in questo mondo un pochettino capisci? per vaccinare il mondo per insegnarci per insegnarci esatto quindi è come un dottore che introduce il veleno del vaccino in un ammalato cos'è il vaccino? si ringa gli inserisce gli inserisce il veleno del virus contro il quale vuole vaccinare l'ammalato in questo caso Dio inserisce un po' di veleno del diavolo nel mondo per vaccinare il mondo contro il diavolo stesso va bene come si sa quando si vaccina ci sono dei casi che il paziente muore dalla stessa cura se lo vedi lo vedi sempre questo è una reazione sbagliata in ogni caso il vaccino cioè il diavolo non è la cura in se stesso va bene ma la cura sono i cosiddetti quando vaccina la persona il vaccino è veleno no? come fai a veleno a guarirti? ma il veleno del vaccino genera cosa genera? gli anticorpo anticorpo va bene ecco quindi il corpo per natura va bene può sviluppare e sviluppa gli anticorpo cioè arriva questo veleno nel corpo e il corpo dice hop è arrivato un veleno qui presto globuli rossi globuli bianchi globuli tricolori quello che sono compatte presto tutti i globuli corrono in capito militare correvamo i fucile l'elmetto corri 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 armati bazooka proschierati boom tutti i micro tutti i globuli che corrono armarsi questo fuori di testa ma è una siringa di veleno presto neutrali allora tutti i globuli combattono e cosa sviluppano? gli anticorpo la difesa sì la difesa e questi anticorpo sono la cosa che guariscono da quella malattia se così non le ho studiate se faccio qualche sbaglio fratelli che siete andati a scuola io sono io sono autodidatta arrivo fino a un certo punto va bene va bene senz'altro farò degli sbagli insomma comunque correggetemi per favore ma secondo me ci sono questi globuli che vanno armarsi corazze almetto spada bastoni e botte da orbi al veleno e sviluppano gli anticorpi quindi è un addestramento per difendersi ecco quindi il diavolo stesso il diavolo in se stesso non è la cura il vaccino non è la cura il vaccino è il veleno va bene ma la cura sono gli anticorpi nel nostro caso l'anticorpo come si chiama il nostro anticorpo? la nostra fede? no Gesù Cristo l'anticorpo è Cristo sì vabbè è logico la fede è in Cristo ma la fede non ti salva è la fede in Cristo che ti salva sì sì capito? la fede in Cristo certo cos'è la fede? è credere ma in cosa? sì bisogna sapere anche in cosa quindi nel nostro caso l'anticorpo che noi sviluppiamo è la nostra fede in Cristo quindi arriviamo a Cristo va bene ora la Bibbia descrive quelle anime però ci sono delle anime la Bibbia la descrive bene che preferiscono il veleno del diavolo cos'è? cioè la mondanità il peccato l'egoismo la cattiveria capito? questa gente qui che preferisce il veleno del vaccino in questo caso il diavolo c'è gente che preferisce questo veleno gli piace di più capito? invece che Cristo quando tu metti questo la gente deve scegliere allora sviluppo gli anticorpo contro il diavolo o alcuni li sviluppano contro Cristo cioè c'è chi c'è chi dice ok antico no no io non voglio egoismo non voglio violenza non voglio guerra non voglio questa perversione sessuale no io voglio Cristo e questo si chiama l'anticorpo no? però c'è c'è quegli altri che preferiscono il veleno stesso veleno di zizzani di egoismo di violenza di ateismo e queste si chiamano in Matteo 13 si chiamano zizzania quindi Dio mette questo questo vaccino questo veleno il diavolo in tutto il mondo un pochino ne mette e poi sta a vedere come la gente reagisce ci siamo? allora quelli che accettano la salvezza di Cristo sono si chiamano il buon seme va bene il buon seme quelli che lo respingono si chiamano zizzania vedere Matteo capitolo 13 ci siamo fino a qui? amen oh andiamo a Giobbe 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 23 e poi c'è un'altra scrittura Deuteronomio 8 dimmi quando si Giobbe 23 23 devi leggere il 10 10 ma la via che io batto egli la conosce se mi mettesse alla prova ne uscirei come loro capisci Giobbe è stato uno che ha sviluppato gli anticorpo ha mormorato un po' si ha lamentato un po' e non era perfetto un po' un bel po' eccetera io naturalmente gli sono a predicare su Giobbe e Giobbe non possono anche lo stragliere scarpe innanzitutto perché la mia Bibbia dice che per un anno intero ha sofferto il poveraccio ok guarda non voglio fare il signor sapientone Giobbe ha sbagliato tu prova ad andare a passare quello che ha passato lui e poi ne riparliamo quindi Giobbe cosa dice qua dice se mi mettesse alla prova ne uscirei come loro cosa sta dicendo cioè supererei la prova capito prima parlavo degli anticorpi non leggo via quindi Giobbe nella sua sofferenza ha sviluppato una fede gli anticorpi la fede il confidare in Dio come vuoi chiamarlo e ne è uscito come loro dopo qualche sbaglio di percorso però tu prova a soffrire quello che ha sofferto lui e vediamo se non ti lamenti un po' capito io sarei contento di passare le sue prove come le ha passate lui quindi la prova lo ha insegnato ad essere più forte a resistere a combattere a vincere ecco ecco questa cioè praticamente il signore sottregge il libro di Giobbe il diavolo ha chiesto premesso a Dio posso andare da Giobbe e dargli un po' di maledizioni e Dio nella sua saggezza dice beh in effetti Giobbe ha bisogno un po' di carta vetrata per smussarlo un pochino smussare la sua presunzione la sua giustizia personale che il problema di Giobbe era in inglese self-righteousness in italiano non c'è sta parola la cosa più vicina è presunzione superbia allora va bene ci siamo fino a qui? si ok andiamo Deuteronomio 8.2 Deuteronomio 8.2 ricordati di tutto il cammino che il Signore il tuo Dio ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per quale scopo? per umiliarti per metterti alla prova capito? 40 anni nel deserto per metterli alla prova per sapere quello che avevi nel cuore sapere cosa c'era nel tuo cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti ora la maggioranza dei cristiani va bene tutti hanno passato 40 anni nel deserto la maggioranza in che modo Angela? essendo tentati dal diavolo 40 anni? e non 40 anni nel deserto? ognuno diversi anni la maggioranza io dico una quarantina d'anni cosa dici? e non lo so beh la maggioranza dei cristiani sei d'accordo con me che hanno superato 40 anni? e non lo so ah sì 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 quello sì maggioranza sì cioè non sono molti i cristiani che muoiono sotto i 40 anni no le nuove generazioni sono meno cristiane 40, 50, 70, 70 ok 80 sì va bene io c'erano 73 va bene sono sui se quindi voglio dire questi 40 anni di questa vita di afflizione di sofferenze di è un deserto di prove la moglie è sbagliata il marito è sbagliato io sono sbagliato lei sbaglia insomma mi ha trattato male mi hanno imbrogliato mi hanno ingannato il coniuge ha fatto adulterio quell'altro mi ha affrodato i soldi e noi ogni battaglia dobbiamo reagire come reagire cristianamente o come le capre come le pecore o no va bene quindi tutti abbiamo i nostri 40 anni di deserto perché perché Dio deve metterci alla prova per vedere se perché possiamo possiamo dimostrare di che stoffa siamo fatti se siamo disposti a morire per Gesù e come martiri disposti a morire lodando Dio nel caso confidando confideremo o mormoreremo confideremo o ci lamenteremo come come gli dicevo la moglie di Giobbe di fare andiamo a Giobbe 2 rimani di Giobbe Giobbe 2 c'è una scrittura va bene e vediamo la moglie di Giobbe cercava di rubare la fede al marito e qui Giobbe gli dà una risposta che è lapidaria Giobbe gli risponde la risposta di Giobbe secondo me che gerà per tutta l'eternità come Giobbe risponde a questa moglie Giobbe 2 Giobbe 2 8 fino a 10 Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere allora sua moglie gli disse rimani ancora fermo nella tua integrità hai capito che è mogliettina questa qua maledici Dio e muori questa è la versione di Odati altre Bibbie sono più smussate ma Elghi disse a lei tu parli come parlerebbe una donna insensata se da Dio accettiamo il bene perché non dovremmo accettare anche il male hai capito in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra quindi la moglie di Giobbe attenzione alle moglie di Giobbe dico moglie può essere marito fratello sarà quello che è attenzione alle moglie di Giobbe maledici Dio e muori crepa sono stanco di accudirti pezzo di buona nulla sei più cadavere sei più morto che vivo dov'è il tuo Dio dov'è il Dio che è sempre lì a fare sacrifici a lui sempre a lodarlo dov'è tutto sto tempo qui con un coccio a grattarti il pus questo è uno spettacolo quando i suoi tre amici sono andati a visitarlo quattro amici erano sono rimasti zitti per una settimana per una settimana non hanno parlato tante erano le sofferenze di Giobbe e la moglie dice ma la cosa migliore è che non solo crepa ma anche maledici Dio quindi attenzione a qualche familiare qualche parente qualcuno che il diavolo manda per scoraggiarci occhi su Gesù Cristo occhi su Gesù io non starei qui oggi a parlare in questo momento parlarvi così se io non avessi fatto ho cercato di farlo non potete confidare nell'uomo Geremia 17 5 maledetto l'uomo che confida nell'uomo verso 7 benedetto l'uomo che confida nell'eterno alleluia primo corinzi 3 12 a 15 primo corinzi 3 ecco 12 a 15 quindi la nostra reazione mostra chi siamo noi si dice che tu sei quello che mangi e io dico tu sei quello che leggi tu sei quello che parli tu sei quello che pensi tu sei quello che costruisci leggiamo ora se uno costruisce su questo fondamento con oro argento pietre di valore legno fieno paglia l'opera di ognuno sarà messa in luce perché il giorno di Cristo la renderà visibile poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane egli ne riceverà ricompensa se l'opera sua sarà arsa egli ne avrà il danno ma egli stesso sarà salvo però come attraverso il fuoco alleluia vedi questa è una scrittura potente che mostra che anche se sei fuori binario anche se cadi in una fossa verso 15 egli stesso però sarà resterà salvo quindi vedi Dio è un gentiluomo Dio non si riprende un dono la salvezza non se la riprende verso 12 se costruiamo sul fondamento Cristo è l'unico fondamento va bene dice verso 11 Cristo fondamento è Cristo però dipende attenzione com'è che si costruisce oro argento pietra di valore oppure legno fieno e paglia verso 13 il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno alla fine di questa vita verso 14 va bene egli ne riceverà ricompensa dipende però se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane verso 14 quindi molti si presenteranno molti di noi si presenteranno in cielo saranno come dei pollastri spennacchiati senza neanche una penna e che è successo a tua penna e il mondo mi ha spennacchiato e non si è andato da Gesù per protezione guida benedizione no perché sai c'era sempre un programma che mi piaceva la televisione allora Gesù devo aspettare per quando avevo tempo ma si sbaglia sbagliato signora aiutaci Gesù grazie signora allora questo spero che dia un'idea del perché Dio deve permettere che il diavolo porti il suo male ultima scrittura Giacomo 1 vi sono persone che invece di ricevere e seguire Gesù seguire la sua salvezza a volte sotto forma di un'amara croce persone che preferiscono il veleno perché è molto ben zuccherato dal nemico le bugie del mondo sono molto zuccherate coreografie tutte le donne mezze nude che desideri tutto il materialismo la motocicletta la macchina i soldi zucchero a volontà come dolce lo zucchero va bene però sotto lo zucchero lamentere mormurazione mancanza di fede va bene grazie grazie signore grazie Gesù amè signore e abbracciare la tua croce anche se amara signore non tragugiare il veleno perché è così dolce Gesù aveva avuto gli hanno offerto il fiele il fiele gli hanno offerto quando era in croce l'amaro un amaro veleno un amaro e a volte fratelli nelle nostre crisi più profonde ci daranno di avere il fiele Giacomo 1 13 17 Giacomo 1 13 e questa è l'ultima scrittura su questo punto nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio perché Dio non può essere tentato dal male e degli stessi non tenta nessuno invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce quindi concupiscenza desideri malvagi desideri egoisti che lo attrae e lo seduce attenzione non essere seduti poi la concupiscenza quando ha concepito partorisce il peccato e il peccato quando è compiuto produce la morte quindi comincia a pensare no? comincia a pensare una cosa comincia a pensare una certa cosa peccaminosa non è colpa tua se pensieri del diavolo attraversano la mente pensieri di peccato la colpa nostra comincia quando lo tratteniamo ci piace ci riflettiamo invece di come a tennis bang 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 rigettare la palla e tenere la mente libera 16 non vi ingannate fratelli miei carissimi ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal padre degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento ecco ho pensato di rileggerla al completo questa scrittura questo passaggio gloria a Dio bene io avrei finito penso di questa perché Deborah ha fatto una domanda molto profonda una donna sua madre che ha dato a Gesù la sua vita e perché deve essere in questa condizione bene in conclusione ti dico questo adesso ho dimostrato che viene dal diavolo non da Dio e adesso ti dico un'altra cosa ancora più importante se tu preghi e chiedi liberazione e guarigione la riceverai come John G. Lake in conclusione ti dico Dio non manda il male ma non manda il diavolo Dio lo permette perché deve permettere un minimo di male in questo mondo altrimenti in questo mondo non esisterebbe la salvezza che siamo vaccinati contro il male contro il diavolo e che ci volgiamo a Cristo ma se noi non ci volgiamo a Cristo Cristo non può salvarci perché non può corrersi dietro è come quando tu evangelizzare le persone non vogliono ascoltare e cosa vuoi fare vuoi costringerle puoi costringerle a salvarsi e neanche può Dio costringere il mondo a salvarsi e allora ha mandato Gesù però Gesù bisogna cercarlo sceglierlo andare da lui chiamarlo va bene e per far questo ci vuole una scelta ma se non c'è il diavolo torniamo di nuovo in cielo ma il cielo così come era così perfetto come era il cielo non ha potuto evitare che un lucifero diventasse Satana e allora ci vuole un equilibrio di scelta strada grande porta grande porta stretta il diavolo di qui Gesù Cristo di là la verità qui la bugia là l'egoismo qui l'altruismo di là la verità di Gesù qui la bugia del diavolo là perché senza scelta come si fa a scegliere si tornerebbe in cielo e in cielo e in cielo e ripeto il cielo non è stato sufficiente con tutto nonostante tutto tutto è perfetto evitare un Satana degli angeli ribelli una dama ed Eva che si ribellano e allora ci vuole creare le condizioni tra Gesù di qua e il diavolo di là finché noi possiamo scegliere grazie a Dio che la nostra chiesa confido tutti quanti sono salvati confido che tutti i nostri fratelli ovunque sono sono salvati sono benedetti va bene hanno il sigillo di Cristo hanno lo Spirito Santo grazie a Dio che confido che tutti i fratelli che ci seguono sono salvati benedetti e ci vedremo in cielo nel nome di Gesù Cristo va bene ripeto l'ultima volta tua madre sta male ma tu puoi guarirla tu puoi metterti in ginocchio e dire Signore Gesù io continuerò a pregare a confidare e a credere senza dubitare finché mia madre è guarita e se non guarisce non è colpa di Dio non è colpa tua Dio è colpa mia io dubito io non ho fede perfetta io non persisto io non persevero la mia fede non è perfetta non è colpa di Dio è colpa mia ma fratelli se crediamo e crediamo e crediamo e preghiamo e preghiamo e continuiamo a credere vedremo miracoli come dici come per il canto vedrai miracoli se crederai vedi se la prepari da qualche parte sì che dopo gliela cantiamo ai fratelli Angela io ti do la parola sì vorrei reggerti un messaggio arrivato da cinque minuti da parte di Emma e poi possiamo chiudere la dolce Emma devi dire la dolce Emma la dolce Emma e il dolce Giuseppe perché loro sono fratelli dolci sì è una testimonianza di evangelizzazione e di guarigione cinque minuti fa è arrivata sì mentre parlavi scrivete fratelli che Angela legge e dice Emma cari fratelli vi sto seguendo domenica dopo la diretta siamo usciti per regalare dei calendari con la parola di Dio lo facciamo ogni anno ne distribuiamo cinquecento di calendari così siamo stati da una mia cugina non la vedevo da parecchio tempo da premettere che da circa un mese pregavamo per lei l'abbiamo trovata ammalata i medici non sapevano spiegarsi cosa aveva all'ospedale non c'erano posti così soffriva molto e non c'era prospettiva di guarigione abbiamo ascoltato e proposto la preghiera di guarigione che ha subito accettato e mentre pregavamo ho percepito che doveva perdonare così gli ho riferito che Gesù Cristo diceva di perdonare e di essere perdonata e lei ha accettato e dopo aver pregato è subito stata meglio grazie a Dio gli erano passati i crampi allo stomaco e poi gli chiedo vuoi stare meglio? e lei sì così preghiamo ed è stata ancora meglio l'ode e grazie a Dio in Gesù dopo due giorni vado a rassicurarmi che stava ancora migliorando e gloria a Dio l'ho trovata con un sorriso pronta di tornare al lavoro gloria a Dio fratelli il Signore è fedele ora questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto imporanno le mani agli infermi ed essi guariranno Marco 16 da 16 a 19 un abbraccio forte e tantissime benedizioni da Emma Emma e Giuseppe da dolce Emma dolcissimi fratelli sono dolci come lo zucchero grazie Signore e diventano sempre più dolci perché vanno in giro a dare Gesù sì capito andando in giro a dare la dolcezza di Gesù diventi più dolce gloria a Dio vero amén e ti mantieni umile spezzato disperato perché vedi quanto hai bisogno di Gesù ma seduto su una poltrona no ti serve solo la televisione davanti per diventare un transistor anche tu avanti Angela amén grazie Gesù e credo che non andiamo avanti oggi ci fermiamo